Il caro bollette delle amministrazioni pubbliche sta per scontrarsi con lo scoglio della organizzazione del Natale. Un Natale che a Pesaro, eccezion fatta per il 2020 di piena pandemia, è stato ogni anno più sfarzoso nonché uno dei più illuminati d'Italia, per dirla alla maniera di Matteo Ricci. Ecco, quest'ultimo è un primato in cui sarebbe tanto moralmente opportuno quanto conveniente rinunciare e il Comune sembra andare in questa direzione come emerso dalle ultime riunioni di giunta e da un incontro tenutosi oggi con i presidenti di quartiere. Si pensa a un Natale più morigerato ma non sulla piazza. L'albero illuminato da 80.000 LED è già confermato in quanto agisce a basso consumo così come saranno confermati gran parte degli addobbi su una piazza che si presenterà con il restyling di pavimentazione. Su tutto il resto si stanno invece studiando allestimenti alternativi, ad esempio quello dell'illuminazione mista fra luminarie tradizionali e lume di candela. Proposte che si accavallano sulle varie riunioni, potrebbero ad esempio esserci vie meno centrali che erano ampiamente illuminate e che saranno un po' più oscure, potrebbe esserci anche uno slittamento delle accensioni rispetto all'anno scorso quando l'albero e gran parte delle luminarie furono attivate il 27 novembre. Materie che arrivano anche sul tavolo del Consiglio Comunale con Emanuele Gambini che interroga la Giunta su quali azioni si intendono intraprendere per contrastare questo caro energia.